Violenza privata aggravata e minacce aggravate. Sono queste le accuse con le quali, conclusa l'inchiesta, la procura sarebbe intenzionata a chiedere il rinvio a giudizio per Don Andrea Contin, il parroco padovano sospeso a Divinis dal vescovo Claudio Cipolla, al centro di uno scandalo a luci rosse che vede coinvolti anche una ventina di parrocchiane. Il pubblico ministero ha chiesto invece l'archiviazione per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.